Terra Mara, anticipazioni della lunga puntata di sabato 3 giugno, dove vedremo Zuleya disperata a tentare un gesto a dir poco scioccante. Zuleya infatti si cosparge di benzina il capo e il corpo e cerca di compiere l'estremo gesto. Ma andiamo per ordine. La puntata inizia con Demir che ha cacciato di casa Zuleya, le ha impedito di trovare rifugio nel villaggio e le ha tolto i figli. La donna, disperata, tenta di buttarsi giù da un canale ma viene salvata da Unkar che le grida di non farlo e di pensare ai suoi figli e quindi l'abbraccia. Zuleya, piangendo, dice ad Unkar che non vuole più vivere. Unkar porta Zuleya da Sanye di nascosto e sempre di nascosto le portano i figli per farglieli riabbracciare. Contemporaneamente Demir rientra inaspettatamente alla tenuta e Gaffur terrorizzato corre ad accoglierlo e tutto sembra andare bene fin quando Uzum dice a Demir che Adnan è a casa sua. Demir, subito sospettoso, corre a casa di Gaffur. Come entra e vede Zuleya che abbraccia i bambini glieli strappa dalle braccia mentre Unkar cerca inutilmente di fermarlo e li porta via. Zuleya, disperata, gli corre dietro ma lui le dice che la ucciderà se la vedrà ancora a casa sua e la fa cacciare in malo modo dalla tenuta. Poi minaccia la madre e tutti i presenti che se rivede Zuleya li ucciderà a mani nude. Intanto Atip ordina ad un suo uomo di organizzare un furto di cavalli. Nel frattempo Zuleya, stanca e provata, cammina per il paese con una tanica di benzina in mano ripensando a tutte le volte che Demir l'ha accusata di tradimento e le ha tolto i bambini minacciando di ucciderla. Arrivata al centro del paese imbraccia la tanica e se la cosparge addosso dicendo ai presenti che si sono radunati intorno a lei che Demir le ha tolto i figli e non può vivere senza di loro e che questa volta non rimarrà in silenzio davanti alle accuse e ai sopprusi. Quindi prende un accendino, lo accende e sta per avvicinarlo ai capelli quando viene fermata da Fekeli che la abbraccia dicendole che non lascerà che si uccida e le promette che l'aiuterà a ricongiungersi con i suoi figli. Demir è con la madre che cerca di fargli capire che quello che ha fatto a Zuleia è sbagliato anche verso i bambini ma lui le risponde che lei lo ha tradito ed umiliato. Uncar gli ribatte che non sanno cosa sia successo perché non l'ha lasciata parlare e l'ha subito punita. Lui le ricorda le volte che anche lei l'ha fermata anche mettendola in un manicomio. Uncar gli risponde che hanno sbagliato ed ora è il momento di fermarsi che Zuleia farebbe qualsiasi cosa per i figli e non crede che abbia fatto qualcosa di sbagliato. Lui furioso le risponde che ha fatto male a fidarsi di Zuleia e se continuerà a proteggerla se ne andrà con i bambini e non li rivedrà più. Intanto Fekeli porta Zuleia a casa sua e la affida alle cure di Nazire. Bege chiede spiegazioni e lui le racconta che Demir ha proibito a Zuleia di vedere i figli e lei ha cercato di darsi fuoco. Da parte sua Bege gli dice che non ha notizie di Mushgan e Ilmas. Atip. Quando rientra a casa dice alla moglie che a Chukurova girano ladri di cavalli. Lei non gli dà peso allora lui le fa notare che il peggiore dei loro cavalli vale tantissimo. Nazire gli consiglia di armarsi di bastone e mettersi di guardia alle stalle. Atip allora chiama Rashid e gli ordina di fare la guardia alle stalle armato di pistola e di usarla se arriveranno i ladri. Intanto Ilmas è ad Istanbul presso i suoi amici nell'officina dove lui aveva lavorato e racconta della sua angoscia per il figlio che la moglie gli ha portato via. Lo vuole portare in America dove vivono i suoi parenti e che l'indomani c'è un volo per gli Stati Uniti. Allora gli amici gli dicono che si metteranno di guardia per fermarla. In quel momento la polizia fa irruzione nell'officina e ammanettano Ilmas e gli altri senza dare spiegazioni e li portano al comando nonostante le loro proteste. Atip si reca alle stalle e trova Rashid addormentato e lo minaccia che se solo uno dei suoi cavalli verrà rubato Rashid finirà male. Quindi rimasto solo si lamenta che aveva un appuntamento con Fadik e ora lei non lo perdonerà. Quando Zuleia si è ripresa va in salotto dove si trovano Fekeli e Bege che le chiede cosa le è successo e lei risponde che Demir le ha tolto i bambini e che Mushgan con quello che ha fatto ha rovinato tutti. Poi spiega che aveva incontrato Ilmas per avvertirlo che Demir lo avrebbe denunciato per l'assassinio di Erjumen perché non voleva che il figlio crescesse senza un padre e Mushgan li ha filmati e ha mandato il video a Demir. Bege le dice che è arrabbiata per questo ma Mushgan ha ragione. Allora Zuleia le chiede come può pensare che abbiano una relazione se entrambi hanno dei figli e che è stanca di ripetere che la loro storia appartiene al passato. Ora invece per colpa di Mushgan non potrà vedere più i suoi figli. Fekeli le dice che la verità verrà fuori e che lui le crede così come crede a Ilmas e non deve temere Demir perché lui è al suo fianco. Poi le invita a vivere nella sua casa fino a quando Mushgan e Demir capiranno i loro errori. Da un car si recano due amiche del circolo e le riferiscono che Zuleia voleva darsi fuoco in mezzo al paese gridando la sua innocenza e che Demir le ha tolto i bambini. Per fortuna Fekeli era lì, l'ha fermata e l'ha portata via con sé. Demir che ha sentito tutto se ne va furioso. Demir si precipita a casa di Fekeli con un car che gli corre dietro e impugnando la pistola inizia a gridare il nome di Ilmas. Esce Fekeli che gli dice che Ilmas non è lì e che è stato lui a portare Zuleia a casa sua. Li raggiunge Zuleia e Demir le ordina di andare con lui. Lei sta per farlo ma Fekeli la ferma e dice a Demir che non gli permetterà di ucciderla e che già lei voleva suicidarsi per colpa sua. Zuleia è sua ospite e lui non manda via un ospite e la riavrà solo passando sul suo cadavere. Demir incontrollabile spara un colpo vicino a Fekeli e un car gli si mette davanti per fermarlo. Fekeli allora gli dice che le donne vanno rispettate e Zuleia se ne andrà quando vorrà e gli sbatte la porta in faccia. Demir sbraita e prima di andarsene urla che la pagheranno tutti. Rientrato in casa Fekeli rassicura tutti che non accadrà nulla ma Zuleia gli fa notare che Demir non si fermerà e lei se ne sta andando. Fekeli le dice che deve rimanere perché non è sola e che Demir capirà che non è da condannare e le darà ai suoi figli. Rashid mentre è di guardia ai cavalli vede due uomini che si apprestano a rubarli allora esce fuori e li minaccia con la pistola e non riuscendo a fermarli spara un colpo. A Tip che ha organizzato tutto per impedire a Rashid di essere interrogato da Giulide soddisfatto si chiede chi di loro abbia sparato per primo. Ha sparato Rashid ed ha colpito alla spalla uno dei due uomini che a terra ferito e dolorante. Quando lo raggiunge a Tip gli chiede cosa abbia fatto e che lui gli aveva detto di sparare in aria quindi lo spaventa dicendogli che l'uomo può morire e che lui sconterà 25 anni di carcere. Rashid gli chiede di salvarlo allora Tip gli dà dei soldi e gli dice di scappare dal cugino che abita in un paese lontano da lì e di andarsene prima dell'arrivo della pulizia e non tornare fino a quando non glielo dirà lui. A Tip è in ospedale e aspetta che Giulide abbia interrogato il ladro ferito. Quando lei ha finito a Tip le dice che Rashid ha sempre creato problemi e che ora dopo aver sparato è scappato nonostante lui gli dicesse di affidarsi alla giustizia. Ilmas nel frattempo è in cella di Istanbul con i suoi amici e un gendarme li informa che devono rimanere lì fino all'arrivo del procuratore il lunedì successivo. Fekeli informato che Ilmas è in prigione insieme ai suoi amici accusati di furto dà subito disposizione di avvertire il loro avvocato e farlo uscire da lì. Quando lo riferisce a Bege lei gli dice che è preoccupata per Mushgan che appena otterrà il passaporto del bambino volerà in America. Intanto Nazire è con Zuleyya e cerca di consolarla dal suo dolore e le dice che le è mancata tanto. Intanto ad Istanbul gli avvocati di Ilmas scoprono che l'arresto era stato un errore e che verrà rilasciato subito. Come esce di prigione Ilmas si reca subito da un'amica di Mushgan che gli riferisce che lei è partita quella mattina per l'America. Così terminano le anticipazioni di sabato come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale Chi è Cosa TV e al mio secondo canale dove seguiamo la sop La Promessa. Il secondo canale si chiama Le Ragazze del Pomeriggio. Io sono Stefania e come sempre vi mando un abbraccio e vi aspetto nei commenti.